E' questa cosa che veramente, non è facile stare di qua sopra, prendersi tutta questa energia, guardarvi in faccia, perché io mi vedo. Uno, due, tre! Ciao, ciao! Con la testa, con il petto, con il cuore, con le gambe, con il cubo, con le occhi, ciao! Oh, non ti chiedi! E' questa cosa che veramente scrive, non crederemo, tutte le persone scrivere. E' questa cosa che veramente scrive, non crederemo, non crederemo, non crederemo, non crederemo, non crederemo. La fine del mondo, non c'è una perfetta, mi scocca nel cuore, non voglia, mi spesta. La fine del mondo, mi cresce, mi stessa, mi venga a star male, mi scoppia la testa. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao! Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao! Con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao! Con la testa, con il petto, con il cuore! Buonanotte, 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 ciao ciao! Buonanotte, è la fine, ti saluto, ciao ciao! Buonanotte, 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 ciao 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 Grazie a tutti